Ehi tu, vuoi comprare skin a prezzi più economici e venderle le tue skin per soldi veri che non devi usare solo nel mercato di Steam? Clicca il link in descrizione per andare su IG Vault Io ho una flash e ve la tiro da dietro, bene Che bello Bene Bene Ciao, si sta iniziando Ve la flash Be contact Ve la flash Be la flash Ve la flash è contattata da dietro Contattacela Contatti? Pronti? Contattati? Wait, wait, wait No, aspetta, fai passa la smoke Sì, sì, hanno usato la smocchina Hanno usato la nade Forse sta pushando Hanno già usato la nade Guardate dietro Contattiamo o non contattiamo? Contatto? Contatto Petta, 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 petta Bianco? Contatto, la flash, contattata Uno sul vulcone, furgone, furgone Non muore Uno sul site Buona Come muore il site? Light e backseat E kitchen Vai Dimo Mi è piaciuto Dimo che si è girato dall'altra parte Quando ha visto il CT Ma dov'è Abbiamo perso un round Ma due euro in più Sei diventando ricco oggi Dimo Tutto ricco Siamo un mid contact Sì mid contact Mi sono spuntato la payback Guarda che contatto Che ti faccio Io l'ho contattato Anch'io l'ho contattato con la Diva Connector Contattato morto mid Connector 1 Taggato short Ma danno la precisione della tech Sì Forse ci pushano la dietro Short era feritissimo Occhio ladder room Potrebbe essere entrato il ladder room Special short Ho smulcato window Uno jungle Sto entrando in ladder room Aspettate Aspetta Ci sta una bustatella Qualcuno però Short window Ok jungle Un altro jungle Buona Quarto Buona Ah giù va Ma arriva il sneaky biki Probabilmente la short guys Guardate il CT plant L'ultimo è 6 Oh cazzo Dove Grazie Sica Grazie Grazie Sica No ma grazie comunque Grazie per il follow Mi ha trovato la molly Porto B Madonna Uno è in Andate in B Andate in B Andate in B Sì Andate in B Sì andate in B Oh cazzo Ma Era uno già in kitchen È di backside adesso Va verso Muretola Come si chiama Un altro kitchen Voglio andare indietro Fai fermo Eccolo lì Il timing di merda Una dietro Una dietro Ci guardo un quarto d'ora Io dietro Guarda 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 Ci guardo un quarto d'ora Io lì No Decido di andarmene Esce Vaffanculo Ma facciamola la kill quit Eh lo so Le usate tutte Le usate tutte Il game prima Di mo C'è una 254 Wingshot Suicide B Sì è sui sai B Vai sui sai B How to lose a round fast Tutorial Ti fa la Nutella Sì E frizzare Conta mia In B4 che c3 una molly E bruciamo tutti E facciamo la grigliata E mi ha preso l'assi da sinistra Grigliata Almeno ho fatto la kill Grigliata confirm Confirm Eh 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 Bandaggia questo Reported Dopo questo shot Meritavi di vincere Peter Mi ha fatto 100 in tre Peter confirm Really Really Compriamo dai Lascio più un'altra Da te a due ore ne prendi due Mi prendi di caccuccino Ma se vanno tutte Sì da nazione Picchiamo al mid Che è scarso Vai 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 Picchiamo Via che ha una WP per picchiarlo No No Moco connect Lo picchiamo con la camp Lo picchiamo in quel posto però Ho smaccato ramp Close Guarda Still Usa quit Dai tranquillo Uno short 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 Uno short mi ho piccato Short nade Buona Nice Uno in a preso Buona Andiamo in a Andiamo in a Prende la bomba Guarda short L'altro preso Nostro è B Occhio short a destra Entro in a Connetto Ah è libero È B È B lui Finestra 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 Ok Magari se è sceso mid O è sopra Sulla sinistra O è mid Mid Oh ne ho fatta una Visto? Non sono inutile Andiamo No 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 Ti il popo Non è il pc che fa rumore Eh Elicottro Pa 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 sono le ventole che tempo tantissimo quando metti il microfono vicino al dissipatore poi non ne sento temerò anche sta cosa se volevi hanno fatto la one way una è short sono in eco eh non dico il tipo morto window destra morto sempre window destra c'è una molotov aspetta inter ho fatto all scappata la guardia la fresca scusa almeno dei metri nice percorso avete capito xxxx bella bella buona buona ma che preferi mi hai fatto starmi praticamente l'hai fatto il pannello guarda il disegno se rimanevo un po' di più ommasciare da prima prendo la vp e vado a piccare la davvero ciao no eh io devo riparare non ho capito cosa vuoi fare se che volevo piccare i mid ma non c'è l'hai un attuto dove l'ho pericolccato sono a fare i 50 fps si si dai nessuno guento short tornati indietro ancora lì torna in guento morto morto short pucia pucia ct ciao ragazzi ciao bello oh dietro 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 da b da b da b da b alla bomba eh si morto morto una ct una ct ti rampa aspetta lo picco io morto un altro un altro e vado in b ciao vado a piacere vado in b grazie morto morto una ct e un ulti ramp ciao ma sta arrivando a slow quindi parlando per short eh vado a short guarda ups a ora ti spon hai rimasto a cercare tutto stai caccando al rosso stai salvando la cappa stai salvando la cappa ho tanto attenzione l'ho fatto l'ho fatto c'era la vp qua no aspetta uh la vp a sinistra la vp a sinistra è il momento di uscire la glock è tranquille lox più che abbiamo toccato il mouse stato sono andato alas puro eh probabil io stui spero che non sia e invece e invece davvero non ne ha esbabato picco a è andato su cobblestone che troppi veloce no picca si si madonna mia l'ultimo proprio giallo vieni con me si si ci sono dietro smoke c'erano uno è passato verso connector che hai smokeato male ok uno short uno short uno short vado in modo strano non lo vedo short occhio short ok short la smoke è quella bandone con il network questo passi ne senti eh salme short short ok short non muore short non muore short non muore è morto short no 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 ho desideramente problemi nel 64 click morto vuoi buono 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 nice Pusciano il mid aiuto Oh cazzo Morto niente Mai tranquillo Short morto A K in palace forse pusha ti spune Occhio palace Andiamo a B Arriba connect Grazie per il follow Mi sa che è salito È salito Non planta il mio mouse Grazie mouse Lo sapevo Uno ladder room Arrivata short A K Short e back side Short Short Buona Dimo Bella 50 fps Easy Non devo fare un top streamer Ma non è il pc Abbastanza potente Vorrei fare un pick in bio Oh da quando stermi mi ha chiesto di fraggare Comunque Eh stermi Da quando mi hai chiesto di fraggare Ma si resimilano Guarda io ho smesso di giocare Quindi tps ne prendo tanti point A vp mid Eh sono due no Incazzate Ho fatto la entry guys Bello Quindi tutto a basso Flash mid Mentre si alzi no Devo recordarlo Andiamo verso A C'era una vp window La bomba è verso b raga Andiamo b? Sì Flash a window Eh car uno Eh una connector lì vicino Dove c'è un sperm Aspetta no Ce n'era uno a car E altri nessun'idea Andiamo b late dai Metta 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 Buona È la seconda Arriva arriva Push Avp avp mercato Eh mercato si Come avrei detto io fossi stato lui Avevi rotto il cazzo Stermi Vale C'è un video di droppa Dimo droppa Dimo droppa giovan Droppa k Droppa k Per chi su youtube C'è un video di blip Dove Fa vedere come si setta OBS Ho smuggato top mid Aspetta No l'ho hittato Vai vai Picca la scatola Vado a destra io Aspetta mi Pronto tre due uno Picca È andato indietro È andato indietro Bianco Baitato mi sembra Sì c'è sangue Uno short Uno short Uno push lamp Uno jungle Preso Buona Ecco Buona di nà Uno in balcone Flashback Flash short eh Entriamo Falcone Bello Uno ct Uno ct Ct Arriva da ct Arriva da ct Arriva da ct Mi apprezzo questo gesto Ricordatelo Grazie Sica Grazie No Ti stavo semi meccanica Te l'alzo Sica Sica Tieni Non lo vuole Sono attraverso il muro No ma io mi sono da si beat Ci sono io e me Ci sono io e me D'occhio che picca Aspetta 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 Lo prendo comunque Sono Mamma mia Questo dio Mamma Short morto Triple 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 Dai Side Quello dico Ahia Ah la storia I'm black and dark 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 Oh Quella Oh Ho compuso dark Per ninja Va bene Infatti È rogì che tiravo la nè da ninja Eh ma infatti io sono abituato le cose in inglese Sai che non mi ricordo più della checkers cheat Porco di'ez Perché in realtà le colle in inglese sono più fighe Cioè sono più sintetiche Ma che cazzo è? Tra mesi che non ci gioco Grazie Lo spermiatore ma quanto sono forte oggi Short push a Push anche con Nektor Dov'è l'altro tizio in mid? Noi non avevamo un altro tizio in mid Dov'è l'altro tizio in mid? E uno ha pushato short e uno ha pushato con Nektor Morto Andiamo in B Special market Forse sono tutti noi man No Dai saluti Dai saluti Morto dai dai No Dov'è? Uno haps Hps Site L'altro site A 30 HP arriva da Hps Vabbè Ma come cazzo ha fatto a fare il 64 in 1 con la pupida? A mezzo metro Ma chi è quello che è venuto con me mid e poi mi ha abbandonato malamente? Io l'ho visto l'ho visto E' la demo? Ecco chi vuoi che fosse No Io mica sono venuto mid Figa eri di fianco a me Eri di fianco a me Ti sei girato e te ne sei andato mentre mi lasciavano L'hanno stillato L'hanno stillato Sì Erano le tue due kill quelle Mannaccia la miseria porca No come window? 4 mid Dov'è la WP? Sono venuto nel Nektor e poi nel siato Connect window No ancora lì Questa è andata ragazzi Dov'è là? Morto short Miaco? E' one way forse Uno sul Nektor Cavolo Un momento Window, window Dov'è? Del lato Fatto male a te Marema maiala E' la zola Zola? No E' uno zolacco Smoccato window Lascio short Vai Dov'è? Ok E' sempre lì C'era close jungle Really? Easy? Eh vabbè Andate a guardia C'è un colpo che vada in testa adesso The wall bank is real Dai last Dopo boss ti faccio vedere i miei sette Mi faccio vedere Siamo suicide b Anzi scherzo Basta UMP alla vita Last last Allora Suicide come al solito va bene Vai Adesso mi piglio il midder Perché mi ha rotto i coglioni Arrivo arrivo Di prepotenza Io vorrei essere Eccolo Mi è piaciuto Grazie la capta A tritato A tritato A tritato A tritato A tritato Bello A che essa che non funziona Lo cazzo avete messo la bomba Oh Bomba Ciao Bravo Sica Bastardo Te l'hai preso quello Aiuto Wow 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 La becce no Dove? Oh cazzo Nice spray Ho visto lo stesso spray pattern di nothing praticamente No ma c'è il signor Mattia Battlefield Chia Battlefield God giovane Madonna Quanto tempo Quanto siete? Quanto siete? 8-7 Cioè potremmo essere 9-6 Volendo Tremmo eh Però è 1-V-2 Guarda l'IDD No vado a giocare Phase Adesso Ma parca puttana ma proprio adesso deve spuntare il figlio di Troia Pianca Vabbè dai Cioè è arrivato adesso tia mica lo sapevo che dovevi clashare Ciao tia Ciao bello Ciao bello Zeo non te l'ho accordato a farmi una pausa quindi sto sclerando malissimo Io vado in B prendo smoke e flash eh Dopo di questo vado a dormire Io vado mid se volete C'ho il kit Va bene Io vado in B Quindi Dimo e Giova in A Facciamo i dispersi Dove perdere a Vittoria Ho una flash Vedo questo Nessuno under e nessuno top mid adesso E io non ho passi in B Magari un Bcontact Può essere Per me è Acontact Però se hai sentito passi in A Really? Capimento a contact No B Bbomba Ok Lo conto sulle fake Vai B B B B Due hitati Una short di mo Hai visto? Oh short Chiamalo C'è un flash assist C'è uno non lo sto guardando là C'è uno non lo sto guardando là Stavo guardando l'altra parte Mi ha preso là dietro Perché Ma vaffanculo guardate il mouse finito Non ha Giova il crosshair placement Diretto sulla panchina Proprio sulle texture Oh era la la Come si chiama? Che profumo di pizza Che profumo di forza Lasciamo al mid Che profumo di sconfitta Lasciamo al mid Vai Pusciamo al mid Vai Mi piace di parlare con la cicca in bocca Cioè Troi sti capelli E? Io parlo con la cicca in bocca Really? Eh Really? Io gioco con la cicca in bocca Bocca no Nado E vieno Eh Eh vaffanculo Ma Autopush mid 2.0 Ma sempre uno si è preso una nata in test Cioè C'è un po' Nega Occhio Porca pittà Mamma mia quanto faccio schifo Dai ecco Really? Really from 9-1 to 9-8 Really my friend Stacchiamo A Stacchiamo A Stacchiamo A Vai Vado io in vida solo La è quella di C la lettera alfabeto Si La WSP Ti tocco il silenziatore Bravo Così si fa Grande star Che brutto il suono Sembra che tiri martellati Adio Nektor 1 Noi stacchiamo B Vio con Nektor Passi B Gangol Parto Vettore C Push Bene Quali plattare Ho un tizio B Lool No no non puoi 68 in 3 Asaltato sull'HS Non è colpa mia Hai fatto un mind blowing della vita Ma nessuno ci guarda mai lì sotto Non è un mind blow Nessuno ci guarda mai lì sotto Lol Se tu ti metti sotto la window E quello esce window Quello non ti vedrà mai Più che ti metti sotto il cammello Che c'è 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 Uno è win Uno è in Morto 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 no wind Uno è chair Chair Dove? Uno chair e uno mid Uno chair e uno mid Chair è andato verso Verso top Connector arriva Non sono close dentro E cosa connecto? Mi guardo palace Morto Morto uno Morto uno mid Buona Uno connecto Rittato Connecto rittato Buona Morto Va giovane Nel Il one tap Wallbang Io avevo due set di passi in B E tu ne hai ucciso solo uno Ma quella è la bomba dove finisce? Ma lì infatti Perché non me la tagga il radar? Dov'è la bomba? La mid mid Ah ok Quindi potrebbe essere underpass O top of mid Secondo me La bomba è ancora lì? In termina Dai la vp nel caso Underpass Underpass con la vp Sicca È davanti con connector Guarda window Buona Prendi la vp Sica Perfetto Bella Abbiamo due avp Teniamoceli eh Io sono tipo il bait per eccellenza Bella Secondo me è really Porca porca Ce l'ho ce l'ho Andiamo a far lavorare i vostri due avp Eh porco giuda però Io non sono abituato a farlo Ho sempre giocato con gente O con un'altra gente Che lo faceva Vado short diretto eh Sì Vai top mid Viene proprio adesso Antipassi in A Flash in A Mi muovo verso con connector Moco palas No non girare Non girare Uno Uno palas Uno è palas Uno è tetris Uno è tetris ancora Sight 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 last Bomba drop di fianco a scale Vai a chiamatene Uno è tetris Sight Che cazzo è Sight Sight Buona Buona Sight Sight L'avete giudato voi con la mega flash Eh Sei mia solida Eh Dimo che non parla Perché gli hanno staccato le corde vocali quando era piccolo Giove di drop 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 Non parla Devo urlare in PS Sight Sight Si son bruciate gli occhi Vabbè ci credo Io come faccio a essere 1414 con 4 MVP Come funziona sta cosa Sono top 1 ma Ma A round Guarda underpass Mi guarda di top Prendo Bello Arrivo Flasho Flasho Una close E dai Non puoi farmi one tap così di tech 9 No Perchè si mette a me la gente miara Quattro colpi Uno vanno Non sono facendo queste lock in effetti Me l'ho scordato E' stato troppo distante io da B E' stato da mente a me la che mi c'è Eh hanno fatto il contact E' stato 2B all'inizio Eh ma hanno fatto il contact Ci ha messo un quarto d'ora Ad arrivare Facciamo un E così Troppo a cistola Facciamo rampa Facciamo rampa Va bene Mi piace Vai Aspetta la flash Aspetta Vintato uno Morto Sono 3 Erano 3 lì che aspettavano Erano 3 rampa T che aspettavano Non erano flashati comunque Sono entrati Sono entrati Sì Mario Te l'aspettano Tetris Sì che è in buio Che cazzo di questi anni Che cazzo di questi anni Che cazzo di questi anni Che cazzo piccata Ok raga Ok sta partita è un kill No c'è che è Comprate vado a me Ok 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 Noi non possiamo perdere Della prima Erano 7 e 1 Eh infatti Datti Poi Hannibal ha deciso Che voleva iniziare a giocare Spagatemi la cosa Un 455 dei ping Tu non mi dico Flashing up forse è stata fasta Forse No pe Morto Buona stermi Buona stermi Uno uno ai ramp Hai una smoke up Passi Hunter mi sa Top di C'è passata Tetris eh Throwing smoke Un altro mid Sì Una Uno morto era Guardo palace Cambio posizione Vado connect C'avete una flash per top mid No Ohioi Che cazzo è Moco io top mid vai Cioè flasho io No 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 Guardi io palace Sì sì Esco hit e basta Guardi Top mid ancora Ok vado ancora verso finestra Ma mette una flash Per mid No Insiamo zero utilities Non una nada Se me ne picchi uno top mid Due 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 top mid Una vp Obie Te la son presa in the face man Eh me la son presa anch'io Tre mid Tre mid Uno uno short Uno torrella dietro Uno arriva con Nector Uno lo prendo Cazzo short Un altro short E' passato short E' arrivato p Dimo E' arrivato p Short 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 Arriva con la bomba Sight Anche amati che pushava un short Sta vedendo short I maggi Buona Morto Prendi la vp Ce l'ho io Sì 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 Però anch'io Prendilo Prendilo Vai a prendere l'altro Defuso In short c'è In short c'è In short c'è Vai a defusare tu Dimo Dimo vai a prendere la vp Va bene Dimo Prendi la vp 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 No e Dimo che ogni tanto C'ha dei corticircuiti al cervello No Prendi la vp Dimo ogni tanto C'ha veramente dei corticircuiti al cervello Di quelli pesanti No è troppo caldo Non sa proprio cosa fare Dimo la vp E tengo io Lo do io Vuoi la vp Dimo No no Picca la mid Picca la mid Picca la mid Spaccami la cosa Prendi la vp Mi ci penso Lo zio a sterno Guarda come ci muoio Flash in A Smoke in A Open fake Hai visto qualcuno? Una sola smoke in A E' uno smockato window Short 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 Pusha Short 3 push 3 short 3 short E' B E' B raga Arrivo a B E' B Giovanni A vp Dai A vp Bomba E 3 short Entrano E' un sito da qua Porca di quella puttana Un altro Sì 8 molly Oh cazzo La vp Sight Eh kipo Verso vanno Dove è stato a capire Ma non ti ha dato 8 molly in kitchen Sì Io ero tipo in mezzo a 3 molly Poi mi sono mutato sulla finestra e mi ho dato una granata e mi dico che la vp mi faccia Come il lampione Dimo da scrivici Eh c'è un po' di ruggine lì, passare la mano di antiruggine lì dai la verniciata di verde Dimo sei pronto? Non è sempre di buono spiccio Sei pronto Dimo? No no sono pronto Pronto? Quando mi prendevi? No è impossibile Non abbiamo cash Non abbiamo cash però abbiamo 2 vp I 2 vp li droppiamo fuori dalla manta e vinciamo il prossimo round Dimo andiamo tutti il piso Troppo uno Troppo uno Troppo uno Troppo un kipo Ah forziamo no? Eh sì per forza Sghiaccio il mio vp sicca Oh cazzo Vabbè Messo te lo ripasso man Sì sì vai tranquillo Tienilo tienilo La vp è up Smocato top mid No dove sei? Pusciano in A No c'è t C'è t Guarda sopra ti guarda sopra L'ultima volta che ho detto che pusciavano in A sono venuti in trash short eh Vabbè ma sono andati indietro Top mid 2 mi sa Cazzo vanno i miei colpi 64 Termini vuoi venire qua? Arrivo Guardo rampa È morto è morto? No L'ho smocato Voro connect Non è morto non è morto È l'hp allora No niente 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 Morto connect Uno rampa e uno palace Palace e l'hp Dove di mo? Torni in A Forse ne ho visto uno Occhio connector Forse ne ho visto uno underpass L'ho preso legato Pusciano in A Vengo short Flash Occhio occhio Ok forse Uno palace e l'hp Uno short 30 hp 30 hp Sta andando site Un altro Un altro Arriva short Uno è su anko Bomba 30 hp eh Pado per short Buona Un altro short 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 last Uccidetelo 3 in 3 Vai vai short Vabbè Scusa Scusa Oh Grazie a Dio Madonna mia Minchia che fatica Minchia la fatica Veramente La fatica La fatica La fatica Come disse giovanotti Io mi compro Mi droppi Giova Mi droppo Che ho fatto Sica vai in mid Che è il Spall migliore Te lo apro Sica Te lo apro tutto Tu eri io Cos'è Padinaio Mi partiamo Mi cari tu Vado avanti Una Mi ricordo che Fino all'altro ieri Non ho aperto Sto gioco Non ho capito Top mid Passi B Ok Occhio underpass Top mid 2 Top mid 2 Minchia sono una merda Underpass anche Flasho ti flasho ti flasho Che shot mi faccio Nope Io scendo mid eh Guarda che non c'hai più short Ok Sto marker Con Nektor Ma io sono andato solo in A Con tre cose da coprire AWP ancora in AWP ancora in Chair Uno morto con Nektor Uno B Vanno B Vanno B E uno short Uno mid E uno B Occhio occhio Van van Buona morto Morto Van Non è last Ok Last van No non è van È uscito Davanti kitchen Era Dimo occhio Aspetta Dimo Aspetta Dimo Arriva da short Ecco la close Sulla sinistra Lascio uno È lì No Non è lì Chi sei? Pistola Pistola Buona Dimo Cazzo Io voglio sapere quanto ti ho fatto Pezzo di merda Lezzo Buona Buona È il mio AWP Chi c'è? Scusa 78 in 6 Malavita 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 Thank you Non è stato un shot Troprio Aiuto Dovete il mio AWP Se non lo vuoi No no posto 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 Devo aprirti star mio Eh vai No mi avete bloccato Scusami Dai 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 Scusami Non sento passi B Mentre libero Smoke Throwing smoke Non sento passi B eh Sarà un contact Occhio il contact B sì Ragazzi un in quattro B? Sì allora è B perché in A non c'è nessuno Ok G Come vanno tutti con Nektor C'è da underpass Underpass la sto cercando io Torno a me Tu guardo CT CT Flash mid Nessuno qua Stai guardando top mid? Sì È libero completamente Nessuno qua ma no Allora aspetta scendo e picco underpass Mi sto guardando short eh Guardami top mid stai Sì 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 Mi tengo Mi tengo Dov'è? In A In A In A contact A Contact A Dai Bomba drop Uno pushato CT Ho la bomba Uno ha già pushato CT Due CT pushati raga Due CT pushati Ok Unico è un CT Ho più CT prendetelo voi Uno è Sight Dietro Short Morto Mi sto a muore Dai non prendere colpi Io sto a 28 eh Stai parlando di me Stai parlando di me Stai parlando di me Stai parlando di me E aveva rotto il po' Ok Nice Ma cosa hanno fatto? Come sono passati? Non ho capito Quello che sono andati in B Hanno fatto casino Sono tornati da T spawn E sono entrati in B No ma in B non hanno fatto casino Cioè noi abbiamo pensato No abbiamo pensato No abbiamo chiamato Contact B Perché è quello che avevamo fatto l'ultima volta No Proprio In the changing della vita Sei malto tattico mi dicono Siamo 14 13 14 13 Poi ci chiudo Ora solo Sette e mezza Sette e mezza dai L'ho andato a mangiare alla gatta Il mio ciccio l'ha già mangiato È un gatto? Mh Bravo Io Pogno la distruttrice di mondi Io ho Dante Questa mia diva con la lira C'è il nasone? È tornato No no non c'è il nasone È tornato? Ok Dante c'è il nasone Attenzione perché è toglato male Mori qua io Mamma mia chi era Hannibal Hannibal si Attenzione Easy 16 4 14 No stia Facciami the base Tu chi te? Vedo Facciami le ali Tira molly No vero No 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 Smoccano Hanno smocato window Ok short Vado connect Flash short Un short passato Short short morto Grazie Un altro Un altro Vengo in B Occhio Occhio da ladder room Non lo sto tenendo Mid Nice Un altro qua L'ho preso Sì Air short Bomba lì Bomba lì Cosa mid? Perfetto La bomba era ladder allora Sì Oh è sulla ladder di ladder room Scende Sulla ladder di ladder room? Giù su dio Era proprio sulla ladder Non è che ti piglio per il culo Era sulla ladder Cioè Che Culo che c'ho E' un po' più lungo Facca mi do la botola No 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 Dove mettermi in terza che lo voglio fare Devo fare tutti i round E' libero mid completamente Passi 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 Ok arrivo Bomba drop Altri due Altri due Scesi Scesi Certo da smoke Per togliere la molly Eh Plantano Sinistra Uno a fianco Buona Buona GG Occhio alla molly Non ci moriamo 1G 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 Ma meno Ho preso in Human Reaction Yeee Io ho vinto E io tanto non ranco Infatti Baffanculo E si ranca Attenzione Come si ranca? Non è vero Ma è vero Se rancava lui a fare 14-18 Sta partita Io bestemmiavo Ma tipo tanto Ma io invece me Che non so giocarci Raga basta Era un 2 global Really? Era un 2 global E io come mai non sono rancato We wanna wait We wanna wait Gioco ai videogames Da quando avevo 3 anni Adesso sono in rete Let's play We wanna wait